Ciao a tutti ragazzi, vi faccio sentire una cosa Bene, avete sentito ragazzi, questo era il mixaggio di Hero di David Bowie, perché ve l'ho fatto sentire? Intanto ho voluto fare questo video perché è un po' che non mi faccio vedere Sto postando un cartone animato, come vedete, mi ci sto un po' divertendo Sto testando un po' questo format per vedere se riesco a far girare il canale Ci tengo a ribadire che a me non ho velleità di tipo youtuberesco Non mi interessa, io sono su YouTube da sei anni Anzi colgo l'occasione magari di parlare un pochettino di me Io sono su YouTube da sei anni Ho detto utilizziamo questo mezzo per arrivare a persone che come me si sono fatte delle domande tempo fa Quindi ho ripreso in mano un po' il mio canale Un mesetto o due che mi ci sono rimesso Perché avevo necessità fondamentalmente di disintossicare Da tutto quello che io specifico non ho mai avuto robe traumatiche in congregazione Alcune persone vedo che hanno avuto esperienze devastanti Io riconosco che mi sono trovato piuttosto bene dentro l'organizzazione dei testimoni di Geova A parte delle costrizioni che andavano contro la mia morale fondamentalmente La prima volta e unica che mi sono trovato a dover non salutare un mio caro amico fratello ex Non so se poi eri entrato, è stato per me una cosa devastante Intanto mi vedrete magari con la faccia un po' stanca Sono stato giorno e notte, non sto scherzando Ho fatto due notate che sono andato a letto dalle 5 alle 6 Di videomaking, mi ci sono messo talmente tanto Che mi è presa sta scimmia e mi sto divertendo un sacco a fare i video Tra l'altro ne sto producendo uno che vuole essere una serie Un po' come quelle che abbiamo in tv Di puntate da 20 minuti dove voglio essere ironico Ma sotto banco trattare di concetti particolari Anche perché mi rendo conto che purtroppo Le persone fuori che non sono state TDG Non si rendono conto effettivamente di cosa significhi quella organizzazione Quindi a me piacerebbe avere anche un pubblico formato da persone che si interessano Purtroppo ce n'è poche E penso che questa ironia misto ad animazione Possa essere una buona chiave di lettura Perché l'ironia secondo me è fondamentale E stimola anche il ragionamento quando è posto in maniera corretta Però perché vi ho fatto ascoltare la canzone di David Bowie Intanto perché la sto utilizzando come inno alla libertà Heroes è una canzone che è composta da David Bowie interamente Mentre che era a Berlino Ed era un inno alla libertà e all'amore La canzone tratta di un uomo e di una donna Che si trovano sotto il muro di Berlino Separati che al tempo era ancora presente E quindi dice Io sarò la re, tu sarai la regina Saremo come delfini nel mare Tutti potremmo essere eroi un giorno Anche solo per un giorno Vi ho fatto sentire quel suono Perché quella era il mixaggio In studio di registrazione della canzone Per dire che noi ascoltiamo dei suoni Di cui non ci rendiamo conto Ma che compongono lo spettro dell'onda E questo lo sto paragonando un po' Vena filosofica alla legge Che è stata scritta con la mia prima idea di base Stilando una serie di normative Scritte da una persona non competente come sono io Poi l'ho passata a un consulente legale Che gratuitamente si è disposto Per crearmela in maniera professionale E però adesso questa legge sta pian pianino Faticando Ma vedo che giorno dopo giorno Cinque, sei persone si iscrivono Sono convinto che si continuerà a crescere Non c'è l'obiettivo di fare tutto e subito Tanto adesso c'è il coronavirus di mezzo Finché non passa L'attenzione dei politici sarà rivolta ad altro Però approfittiamo di questo tempo che abbiamo Che ci concede il coronavirus Che stiamo in casa Approfittiamo di queste cose per condividere Per scrivere anche un commento A me piacerebbe che tutti voi scriveste Io firmo perché E scrivete la vostra motivazione Perché è importante questo Anche parlando col mio legale È nato un po' questo discorso Che Il politico poi avrà bisogno Di vedere intanto quante persone Richiedono questa cosa Se ci andiamo con 10.000 firme Ci ridono in faccia Se ci andiamo con 20.000 Ci ridono in faccia Insomma affinché non arriviamo a una quota Di almeno Un minimo sindacale Di 50.000 Non sa da fare Anche perché 50.000 firme Bisogna ottenerle In maniera legale Se uno vuole fare Se uno vuole presentare questa legge in Parlamento Deve fare Un avviso alla Alla Questura Non vorrei dire una stupidaggine Perché mi confondo O alla prefettura Vabbè Insomma Deve fare un avviso Alla Alla Questura Ora non mi ricordo se è questa Comunque uno di quegli Difficili Insomma Dare tre giorni di avviso Per dire Facciamo una raccolta firme Nel 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 Suolo pubblico Quando ne raccogli 50.000 Presenti Tutte le firme E dici Ci abbiamo 50.000 firme Ora voi in Parlamento La discutete Questa legge Per forza Questa è legge ragazzi Non è che si scappa Cioè Se noi domani vogliamo fare un referendum Per qualsiasi cosa Io inizio Prima firma Io Poi Si fa Banchi in tutta Italia Se arrivano a 500.000 firme I referendum I politici Lo devono fare Fine Non ce n'è di storia Per modificare Leggi già esistenti Ne bastano 50.000 Quindi Cosa succede? Noi Ora Cerchiamo di diffonderla Sta cosa Cerchiamo di Cioè Ragazzi Io Sembra che Poi ne parlo anche troppo Se non passa Una legge così Ora Se non è questa Questa Se poi La potrebbero anche Mendare E a me andrebbe bene A me anche solo Passasse un articolo Di quella legge lì Sarebbe una vittoria Per me Già è una vittoria Se la portiamo in Parlamento Se la calendarizzano Per me Già Stiamo parlando Di una legge In Parlamento Che discutono Quello è l'inizio Per far sentire Che noi abbiamo Un problema Siccome Su internet È da anni Io perché ho smesso? Perché Molti ex Perdono tempo E lo dico Lo dico In tutta tranquillità È una perdita Di tempo Attenzione È una perdita Di tempo Se si tratta Di Vincere una battaglia Se si tratta Di far uscire Qualcuno Chiaramente Magari qualcuno Perché noi Parliamo Su internet Qualcuno Gli scatta La lampadina Dice Cavolo Sto qua Sta dicendo Un ragionamento In effetti Io Devo rivalutare La mia religione Perché non conoscevo Sta cosa Ma se vogliamo Vincere Una battaglia Io Intanto vorrei capire Se voi Avete intenzione Di vincere Una battaglia Se voi Vi ritenete In una battaglia Io lo sono Perché la sono La sono Perché io Non ho Familiari Nella Nella religione Dei testimoni Di Geova Io sono entrato Da solo E sono uscito Da solo Ho fatto due anni Di studio Della Bibbia Ho fatto due anni Da proclamatore Battezzato Ero lì Per diventare Servitore Di ministero Quando io ho detto Basta Basta Perché Perché Dopo due anni In maniera Un pochettino Ritardataria Mi dovevano far Firmare quella roba Del sangue Io In quel momento lì Quando mi hanno portato Le riviste Del 95 Ho capito che C'era qualcosa Che non andava E glielo ho detto Seduta stanta Agli anziani Gli ho detto Ragazzi Qua c'è qualcosa Che non va Ne ho parlato Nel video del sangue Che se volete Potete andare A vedere Sangue La follia Del colpo Direttivo Quello è stato Il principio Della mia Fuoriuscita Ho scritto Lettera di dimissione E me ne sono andato Dimissione Da lente giuridico Poi mi hanno Disassociato Dopo un mese Perché evidentemente Avevano paura Di ripercussioni Legali Nulla Quindi Ecco Ora divago Perdo il segno Allora Dicevo Non serve Se uno Vuole dire La sua opinione Io non sono Nessuno Per questionare Ma Da lì A dire Che quel Lavoro Che stanno Facendo Abbia Un risultato Nel Breve Medio Lungo Termine Ragazzi Io ho sentito Commenti Di ex Che hanno Detto La legge Non serve A niente Perché Non puoi L'unico modo È smantellare La watchtower Ragazzi Ma Io Ho 32 anni È da un bel pezzo Che mi sono svegliato Cioè Io in Babbo Natale Non ci credo più Non credo più Nelle religioni Ma quello è un fattore mio Personale Dopo che sono uscito Dai testimoni di Geova Io ho detto Io Ragazzi La prossima volta Che nella mia vita Farò Una Prenderò Una decisione Non ce n'è Stronzate Io devo sapere Tutta la verità Altrimenti Non Aderirò A nulla Uscite dalla setta Bisogna Ristabilire Il proprio senso Critico La logica Lineare Rispolverare Sti concetti Di base Uno Vuole scoprire Qualcosa Su un argomento Applicate Il metodo Scientifico Le cose Vanno provate Riprovate 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 Prima di dire Se quella cosa lì Forse Potrebbe essere Giusta All'1% E cosa Qual è Il senso È che Se non passa La legge Se non passa La legge Scordiamoci Di Andare Di vedere Una luce In fondo a tunnel Io Vivo lo stesso Senza Senza Questa Legge Perché Tanto a me Mi ostracizzano La legge Non è Retroattiva Però Nel momento In cui Entrerà in Vigore Qualora Io fossi Vittima Di ostracismo Allora Lì potrò Avalermi Ma per quanto Riguarda Dei potenziali Socclusi Passati Quello Chiaramente La legge La legge Così in Italia Così quasi in Tutto il mondo La legge Non può essere Retroattiva Quindi vale Dal momento In cui Entra In vigore In poi Ma quindi Volete Fare in modo Che da Quel momento In poi Voi potete Fare qualcosa O preferite Continuare a Lamentarvi Su internet Nei social Sono stufo Io di Leggervi Sinceramente Ve lo dico Tranquillo Da amico Come fossimo Una Chiacchierata Al bar Visto che Siamo in Quarantena Facciamo finta Di essere vicini Io sono stufo Di leggere Quei commenti Di gente Che non sa Cosa fare Fondamentalmente E quando c'è Una cosa da fare Non la fa Io vedo Youtuber Discutere Di inizie Lo possono fare Libero Io sono libero Di criticarli Perché Perché Purtroppo Questi Tolgono visibilità Alle cose importanti Ci sono canali Che hanno una visibilità Vastissima Di ex Che parlano Di fuffa Parlano Di roba Che non cambierà Mai niente I messaggi Subliminali I messaggi Subliminali Cioè Ragazzi Ma di cosa Stiamo parlando Ex Che vogliono Invitarti Ad andare In un'altra Religione Non essendo Contenti Dopo essere usciti Dai testimoni Di Geova Io non so Voi ragazzi Ma è uscito Dai TDG La prima cosa Che ho rivalutato E la Bibbia Ragazzi Ma lì c'è dentro Lì c'è dentro Stermini Genocidi Di massa Io non so Se li avete letti O se fate finta O se alcuni Si scusano Di Di quello Che c'è scritto Lì dentro Perché ci vogliono Credere A tutti i costi Ragazzi Lì ci si parla Di bambini Donne Uccise Di soldati Che dovevano andare A prendere le donne Assicurarsi Che erano vergine E chissà Come In quale modo Dovevano assicurarsi Che fossero vergini Proviamo un attimo A immaginare E poi ammazzare tutti Tutti Comprese gli animali No? Tutti Io Delle domande Me le farei Poi certo Gli dice Ma il diluvio Ha ammazzato tutti Ma perché? Perché non era un diluvio Ragazzi Dai su Era una cosa Limitata In un territorio Però vabbè Questo Non c'entra niente Volevo fare un video In cui parlavo un po' Di tutto Di aggiornarvi Un po' Della situazione E E niente Volevo anche un po' Spronarvi Ragazzi Siete Flosci Siete molli Ma ve lo dico Ve lo dico Con tutta tranquillità Non è che sono incazzato Non ce n'è di astio Cioè Ci vuole un po' Di Di Brio Sto lottando Io Questa cosa Perché la legge Mi sono messo a scriverla Ci ho Impiegato Un bel po' Di giorni Prima di Mi sono letto Io la costituzione Mi sono preso La Il codice civile Che non Io non conosco nulla A parte le basi Di quelle robe lì Cioè Sapete cosa significa Il codice civile Mattone così A vedere se C'era qualcosa Su cui mi potevo agganciare Poi ho fatto Una linea generica L'ho passata Al legale Come ho già detto Però Insomma Prima di individuare Magari quegli articoletti E tutto Il mio tempo Ce l'ho impiegato E io come vi ho detto Non è che Rispetto ad altri Io potrei farmi I fatti miei Però Non ci dormo la notte A me non mi va giù Non mi va giù Che Una Una Organizzazione Come potrebbe essere Qualsiasi altro tipo Di organizzazione Perché la legge Non è solo Per i testimoni Di Giava Attenzione Anche sta cosa Specifichiamola La legge Per legge Gioco di parole Non può essere Specifica per un'organizzazione O una serie di individui Chiaro Quindi questa legge Va a normare Tutte Tutte le persone Che commettono Degli atti Illeciti Come quello Che diventa Come l'ostracismo Come dovrà diventare L'ostracismo Quindi Nulla Molti di voi Hanno più Hanno più Motivazione Di me Nell'intraprendere Questa Questa battaglia E io Vi chiedo L'unica cosa Che dovete fare Che potete fare Adesso È andare a firmare La petizione Lasciare un commento Se volete Condividete E per adesso Avete fatto La miglior cosa Che allo stato attuale Si può fare Perché non c'è Nessun altro In Italia Che ha scritto Una legge E che l'ha presentata Sono in contatto Non l'ho detto Ancora Lo dico Adesso È giusto Ho contattato Nicola Morra Del Movimento 5 Stelle Lui è presidente Da commissione antimafia Mi ha dato Una mail Mi ha risposto La sua segreteria Di stato Mi ha detto Di mandargli Della sta legge Che la valuta Il presidente E poi Eventualmente La gira Il ministro Della giustizia Buonafede Quindi Noi ora In maniera veloce Raccogliamo le firme Arriviamo almeno A 50.000 ragazzi Davvero Non scherzo 50.000 firme Le dobbiamo fare Se poi sono di più meglio La mandiamo Poi c'è un'altra opzione Presidentessa Casellati La presidentessa del senato O della camera Non vorrei far confusione Vabbè Terza carica dello stato Lei anni fa Aveva fatto Una Legge Aveva presentato Un disegno legge Sul controllo mentale Ragazzi La Casellati Quindi Se proprio Non dovesse andare In porto Con Con Il presidente Commissione antimafia E il ministro Della giustizia Chiamiamola Casellati E gli diciamo Signora Noi vorremmo Che lei valutasse La nostra legge Perché abbiamo visto Che lei Ha Ha scritto Una legge Sul controllo Mentale Anni fa Eh Ha Casellati Ragazzi Questo Non ve l'avevo Ancora detto Sta cosa L'ha scoperta Illegale Che mi sta Aiutando Grande Perché queste Sono cose Che io Non avevo scoperto Cioè Lui è Specializzato In quella cosa Ci ha fiuto Ci arriva Riesce a ricercare bene Io non riesco Ad avere questa Questa minuzia Questa qua È una cosa professionale Ragazzi È anche questo Ognuno deve fare Il suo mestiere Eh Per questo Io preferisco Avere persone Io magari Ci metto la faccia Divulgo Per quel che posso Però Dietro ci vogliono Persone competenti Vi accenno anche Un'altra cosa Poi chiudo il video Sto pensando Di fare Una Di una Organizzazione Non governativa Una ONG Con l'ambizione Di diventare Onlus Cosa significa Eh L'organizzazione ONG Può essere un comitato Io avevo intenzione Di chiamarlo Ho già Ho già scritto Lo statuto Parte Lo statuto Ho scritto male Poi lo farò meglio Ciffer Comitato italiano Fuoriusciti Enti religiosi Questo statuto Si pone L'obiettivo Di aiutare Tutte quelle persone Ai quali Sono stati Violati i diritti Umani Fondamentali Sanciti Dalla costituzione Dal codice civile E che Abbiamo subito Reati Previsti Dal codice penale Sperando che Se passa Questa legge Si potrebbe Provvedere Anche per Quei reati Lì La organizzazione Si fa carico Di Intanto Istruire Le persone Che escono Dalle organizzazioni Che loro Hanno dei diritti Che possono Vedersi Riconoscere Dallo stato E dalla magistratura E nei tribunali Possono trovare Giustizia Poi Dare Un sostegno Un sostegno Psicologico Chiaramente Poi Dare Un contributo Divulgativo Cioè Quindi Istruzione Sul territorio Nazionale Con conferenze Attivismo Di ogni sorta Compreso Youtube Qualsiasi cosa Per fare Informazione Però Qual è la cosa Importante È creare Una centralità Un potere Una Riconoscimento Statale Se diventasse Perché Onlus Si diventa Quando Lo stato Ti riconosce Come Ente Di Beneficio Sociale Quindi Se Lo stato A un certo Punto Dice Caspita Quest'organizzazione Crea beneficio Ai cittadini italiani Noi facciamo Domanda La facciamo Diventare Onlus A quel punto Sarà Watchtower Italiana Contro Una Organizzazione Altrimenti Altrimenti Attenzione Qua Qua non è Che io Sono Il capo E gli altri Che si uniscono Io sono Il presidente Qua È volontariato È volontariato Si pagheranno Si pagheranno Le figure Professionali Con donazioni Volontarie Con Prestazioni Si potrà fare Prestazioni A titolo Gratuito Per Filantropia Se si riesce Anche a pagare Le spese Legali Perché Se riesce A pagare Le spese Legali Delle persone Che magari Dicono Ma io L'avvocato Non posso Allora Lì Lo Stato Dice Cavolo Sti qua Pagano Le spese Legali Le persone Che non Se lo Permettono È più Facile Che si Diventa Onlus Con Delle Uteniori Benefici A livello Fiscale Io Ve la Voglio Dire Sta Cosa Perché I modi Ci sono Ma Mancano I numeri E io Vi chiedo I numeri Vi chiedo I numeri Che sa Che sta cosa Un domani Partirà E io La voglio Fare Almeno A livello Legale Io La voglio Istituire A me Non mi Serve Che qualcuno Mi Dice Eh no Ma non Ce la Fai Tanto Non Gli interessa Niente Io La Fondo Si Stommeda Solo Dentro Però Quando Uno Andrà Dal Lo sai Che esiste Già C'è un Crettino Che si Chiama Stefano Fidelio Che l'ha Creata Ed è da Solo Però Esiste A livello Intellettuale Esiste Io Sono Già Contento Così Comunque Vi ringrazio Per avermi Visto Lo so Che sono Pesante Sono Sono Scomodo Ma lo Voglio Essere Scomodo Niente Io Vi auguro Buona Quarantena Ne avremmo Ancora Un po' Chi lo sa Penso Un po' Meno la curva Sta andando giù La curva Dai E Cioè Sta andando giù La curva Si sta Stabilizzando Ecco Non sta andando Ancora giù Però Va bene Meno male Ci siamo arrivati A sto picco Finalmente Era l'ora E Nulla Dai ragazzi Su Statemi bene E mi raccomando Firmate Condividete Il Non il video Se volete Anche il video Ma tanto La petizione Condividete La petizione Commentatela Perché lì Si dovrà Incentrare Il lavoro In questi mesi E io Continuerò A stressarvi In questi mesi Ve la metterò Anche nei cartoni Animati Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi